Numero estivo della rivista Caritas Ticino che in copertina porta la fotografia di alcuni partecipanti al programma occupazionale della sede di Pollegio nell'attività di riciclaggio materiale elettrico e elettronica, attività che si amplia a Pollegio anche con quella dell'orticoltura biologica. Questo perché durante il mese di marzo la nostra attività è stata oggetto di un'emissione televisiva della RSI a Patti Chiari dove è stata messa in discussione la validità dei programmi occupazionali e anche l'approccio di lavoro che noi abbiamo rispetto ad alcuni partecipanti. Tre articoli si soffermano su questo tema, in particolare quello del sottoscritto che vuole precisare come all'interno dei nostri programmi occupazionali la stragrande maggioranza, oltre il 90% dei partecipanti, ritiene liberamente che i programmi occupazionali servono e che all'interno del nostro programma occupazionale si possono ottenere delle esperienze positive. Contrariamente a quanto ha voluto proporre l'emissione Patti Chiari, che ha tenuto in considerazione solo una minima parte di valutazioni, dando un'immagine negativa di quelli che sono i programmi occupazionali, in particolare quello della nostra sede di Pollegio. Questo noi lo contestiamo fortemente. Il secondo articolo è di Stefano Friso, il vice direttore e responsabile della sede di Pollegio, che vuole valorizzare il lavoro degli operatori e delle operatrici che quotidianamente accolgono i partecipanti al programma occupazionale. Dunque un'emissione come quella di Patti Chiari mette in discussione anche la professionalità, la passione degli operatori e delle operatrici che ogni giorno accompagnano i partecipanti al programma occupazionale. Stefano Friso li vuole mettere in evidenza anche questi aspetti, quando un'emissione, pensando di raggiungere un obiettivo, ne colpisce un altro molto più importante. Il terzo articolo del nostro presidente Robin Orris si sofferma invece sulle responsabilità nostre come telespettatori davanti a un certo tipo di informazione, anche quella proposta da Patti Chiari e ci richiama all'attenzione e alla possibilità di poter scegliere un prodotto rispetto ad un altro. Insomma noi consumatori di prodotti di media abbiamo la possibilità di schiacciare il telecomando, di fare un clic sul computer scegliendo tra buona e cattiva informazione. Dante Balbo con tre interlocutori esperti del mercato immobiliare ci presenta un problema, la casa, che riguarda tutti, da chi è inquilino, da chi è proprietario, un tema l'immobiliare in Ticino che da alcuni anni ha avuto un grande sviluppo ma c'è anche un'altra faccia della medaglia. Nell'articolo le conseguenze. La riflessione che propongo nell'editoriale prende spunto da due episodi avvenuti in Italia e in Inghilterra, in modo particolare sull'uso del linguaggio e su quanto alcune misure sovranazionali chiedono alle nazioni. Noi spesso siamo assuefati a un certo tipo di linguaggio, a un certo tipo di messaggio e prendendo spunto da un articolo presente nella rivista dove alcune volontarie si mettono a disposizione di donne migranti, in particolare musulmane, quest'ultime presentano nella loro relazione una fede, una fede incrollabile e la mostrano. Allora io mi chiedo quanto noi come cristiani ci mettiamo in gioco. Forse anche questa esperienza con le donne musulmane può essere spunto per noi cristiani per essere più attenti a un certo tipo di linguaggio che oggi ci viene sempre più proposto. E con questa presentazione si conclude la nostra programmazione che riprenderà in settembre. Ci auguriamo di avervi potuto mettere a disposizione delle riflessioni interessanti. A tutti voi auguriamo una serena estate e ci vediamo a settembre.